Oh super ciao ragazzi miei bentornati sul mio canale che non si chiama più 0dx la Lovest, si chiama 0dx e basta Cosa è successo? Eh si ragazzi è il momento di cambiare 0dx, questo è il mio canale principale, la Lovest Fra di noi lo chiameremo ancora Lovest ma è 0dx ragazzi, eh si bisogna dare un taglionetto perché se no Perché ho tolto la Lovest? Perché sì, perché mi sono reso conto che lasciarlo con il nome Lovest dà troppo l'idea di canale secondario Quale era l'inizio, però col tempo è cresciuto, è diventato il mio canale di videogiochi e io sto principalmente facendo questo su Youtube La mia identità sul web va nella direzione di persona che parla di videogiochi, con Twitch, adesso ne parliamo Gameplay, video sui videogiochi in generale, quindi 0dx ragazzi, devo chiamarmi 0dx Continuate pure a chiamarmi 0x la Lovest ma è 0dx Comunque tolta questa premessa, come state? Come state ragazzi? È tanto che non ci vediamo Ci sono stati tanti casini in Italia, lo sappiamo, questa pandemia ha veramente devastato la vita di tutti E un po' anche la mia perché ad esempio questa casa dove sono qua adesso a Milano dovrò lasciarla E spero di trovarne un'altra in futuro ma per il momento, per l'estate, mi tratterrò a casa dei miei in Toscana come ai vecchi tempi E farò video da lì, live su Twitch, ne parliamo E cose da lì insomma Quindi siccome è tanto che non faccio video ho deciso di farne uno, sai questi sono i soliti video che non lo volevo fare Chiaramente questo video di aggiornamento poi lo toglierò perché non mi piace avere i video che restano lì Sporcano il feed Praticamente vi voglio un attimo anticipare le prossime cose che arriveranno qui su YouTube e su Twitch E poi ne parliamo Allora, su YouTube, adesso che ho finalmente riavuto accesso alla mia PS Vita che vi ho lasciato qua a Milano La porterò in Toscana con me e farò una serie di gameplay su Uncharted L'Abisso d'Oro Una serie che in Italia mi sembra che manchi Poi siccome non l'ho mai giocato, lo voglio giocare E quale migliore occasione per condividerlo con voi e vedere com'è questo Uncharted Golden Abyss Sono consapevole che sarà una serie che non ne fregarà niente a nessuno ma è una cosa mia Ci tengo a farla su YouTube, sul mio canale Prima che si passi a cose più importanti, che arrivi la next gen perché sta arrivando PS5, nuovi giochi di crash, quindi spero venga una serie non troppo lunga ma voglio farla Poi parlando di Twitch finalmente, allora, vi sarete accorti che ultimamente mi sono molto dedicato a Twitch e mi piace tantissimo Molti altri YouTuber si stanno spostando su Twitch perché è una piattaforma molto più remunerativa di YouTube Ragazzi c'è poco da girarci intorno ma YouTube non paga, non ha mai pagato Twitch è arrivato, funziona, è divertente Twitch ha questo sistema di abbonamenti che molti dei quali possono essere fatti attraverso un già presente abbonamento Prime di Amazon Perché appunto Twitch è di Prime, quindi se te hai Amazon Prime puoi collegarlo a Twitch ed avere Twitch Prime e abbonarti gratuitamente E vedo che tantissima gente si abbona anche solo per il gusto di supportare il creator Ne come tanti altri, ovviamente parlo in generale della piattaforma, quindi Twitch funziona È una cosa che secondo me è destinata a restare in futuro e ha un grande futuro Mentre vedo che YouTube piano piano è destinato a restare come piattaforma magari per portare persone su Twitch O comunque dove i contenuti finalmente andranno a scemare in direzione di una maggiore consistenza di contenuti Quindi finalmente spero che inizierà un'era dove YouTube, dove la metà su YouTube non sarà più necessaria Si andrà verso più una divisione proprio di contenuti dove su YouTube c'è la roba interessante Perlomeno me lo adulo E su Twitch si va verso una direzione più televisiva dove la gente accende Twitch, guarda gli streamer Semplicemente per avere compagnia Ma parlando di Twitch, cosa c'è in serbo su Twitch nel mio canale? E allora, innanzitutto trovate il mio link in descrizione per andare e iscrivervi sul mio canale Viola, perché attenzione non bisogna dire Twitch su YouTube, se no ti banna Canale Viola, canale Viola Allora, settimana prossima, ora che arriva, inizierò God of War PlayStation 4 Visto che è un altro nome a questo God of War, non ne lo potete andare Allora, questo gioco, lo sapete, è un gioco abbastanza controverso per me Perché tantissimi pensano che io lo odio, pensano che mi faccia schifo God of War Quando invece io ho sempre detto che di God of War PS4 non mi piace la storia, ma il gameplay si Quindi, siccome non lo gioco da quando è uscito Quale occasione migliore per rigiocarselo in attesa di The Last of Us 2 Quindi, questa settimana inizierò God of War PS4 Rigiocandomelo, non sarà Blind Run, quindi, ma me lo giocherò con voi E analizzerò, cercherò di capire cosa e di spiegarvi cosa non mi è piaciuto E cosa invece apprezzo molto Poi, cosa succede? Arriverà il 19 giugno The Last of Us 2 E cosa facciamo? Ce lo giochiamo tutto Finalmente in live Che bello con voi Però, attenzione, siccome per me i giochi in Autidog sono una specie di venuta del Cristo Per me The Last of Us 2 sarà un momento sacro Quindi io me lo giocherò proprio come se non ci fosse nessuno Mi metto lì, lo gioco, non guardo commenti, non guardo Magari qualcuno sì, ovviamente ci sarà un minimo di interazione anche a livello psicologico C'è la consapevolezza che c'è qualcuno che ti guarda Però lo giocherò mettendomi lì, magari anche non avendo orari Quando sono online, andrò online, magari non avverto Quindi assicuratevi di avere attivata la campanella su Twitch Perché anche su Twitch c'è la campanella Che se te la attivi ti arriva la notifica sul telefono Ovviamente devi avere l'app di Twitch sul telefono Cosa che vi consiglio di prendere Quindi The Last of Us lo giocherò da solo alla mia maniera Condividendola con voi e facendo ovviamente una playlist su YouTube Sul canale delle live perdute dove potrete andarvele a recuperare tutte Praticamente io questo The Last of Us mi aspetto di giocarlo Come ho sempre giocato su questi giochi in Naughty Dog Ovvero perdere ore e ore davanti a una zona Guardare tutti i dettagli Guardare le luci, girare la camera, cercare gli oggetti segreti Io penso che questo The Last of Us 2 mi durerà tantissimo E sono curioso di vedere se vi interesserà giocarlo Cioè no, in realtà lo gioco io, voi mi guardate giocandolo Giocarlo Quindi ragazzi ci sono molte novità In realtà no, novità C'è questo nuovo percorso che devo fare su YouTube e sul mio canale Poi ovviamente aspettiamo che arrivi l'annuncio di questo crash nuovo per PlayStation 5 O qua non si sa, il nuovo crash il primo po' deve arrivare Aspettiamo che arrivi insieme ovviamente a tutti gli altri annunci che dovranno fare sulla PlayStation 5 e Next Gen Quindi spero che da qui a fine anno si possa vedere e toccare con mano bella roba Tra cui anche la PlayStation 5 che spero di avere più o meno al day one E la unboxerò con voi Ragazzi sono fiducioso di cosa può succedere nei prossimi mesi Speriamo bene Speriamo soprattutto che questa cosa della pandemia riesca a finire Che si torni piano piano ad una normalità Vi auguro anche di star passando bene questo momento e di non essere eccessivamente nei casini Perché ragazzi purtroppo siamo tutti un po' così Ragazzi appuntamento quindi questa settimana su Twitch Poi quando uscirà della sto base sempre su Twitch Campanelle attivate dappertutto Seguitemi sul canale Telegram perché ogni volta che vado in live vi aggiorno di là E niente ragazzi piano piano ci rimetteremo in moto Quindi super ciao e basta ragazzi Questo video lo toglierò E chi l'ha visto l'ha visto Consideratevi dei privilegiati ad averlo visto Ragazzi super ciao alla prossima Yeee Grazie a tutti